La cerimonia di apertura, come da tradizione, apre il 47esimo Criterium Internazionale Children, colorando le vie di folgaria. Le madrine dell'evento sono state Nadia Fanchini e Ioanna Schnarf. Prometto di gareggiare realmente e di rispastare e osservare tutte le norme che si ispirano alla cavalleria sportiva. Mi auguro che questa gara sia per tutti noi motivo di sprone ed essere migliori per mantenere sempre alto il nostro spirito e l'amore per lo sport. Dichiaro aperta l'Alpecimbra Fischi Drink Up. Ciao a me e Nadia, un messaggio da dare a questi ragazzi. Sicuramente mai mollare, dare sempre tutto e poi qualche arriva, arriva nel senso che non tutti per forza devono vincere. L'importante è sentirsi di aver dato tutto e poi è sempre un successo da solo il fatto di esserci e dare tutta l'energia che si può. Quindi in bocca al lupo a tutti e un abbraccione. In bocca al lupo, forza! Io voglio augurare a tutte le donne una buona festa. Allora, auguri, auguri a tutte le donne, auguri! Allora, auguri, auguri! Ci sono due due ragazzi, commolene, compliments. E io voglio le persone che si può dare a tutti i ragazzi e i ragazzi. Per portare il saluto del Presidente Roda e di tutta la federazione, ancora una volta a dire grazie, grazie agli organizzatori, del Presidente Gennari, soprattutto dal punto di vista tecnico, allo ski team Altigliani, un grazie speciale, lo dobbiamo dire ai nostri testimoni. Grazie a tutti.